I santagatesi non si arrendono all'idea di perdere l'enorme patrimonio morale e materiale dell'esperienza ultracentenaria rappresentata dall'Istituto delle Suore Salesiane Vincenzo e Francesca Zito di Piazza Duomo, la cui chiusura è stata decretata lo scorso maggio. Su richiesta dei componenti di Officina Democratica, ieri mattina l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Bruno Mancuso ha incontrato i rappresentanti di Comunione e Liberazione, Banco Alimentare, Sant'Agata Volley, PGS, Punto Betania, Azione Cattolica, Pino il Pulmino, Movimento dei Focolari, alla presenza anche di alcuni giovani santagatesi. Dal 1 settembre infatti le religiose figlie di Maria Ausiliatrice, guidati da suor Valeria Marotta, direttrice, dovrebbero lasciare l'Istituto. Chiuderà ai battenti l'intera struttura edilizia dell'Istituto, donato insieme ai terreni adiacenti dalle sorelle Giulia e Caterina Zito, con testamento olografo ai salesiani e le figlie di Maria Ausiliatrice nel 1935, pensando proprio a destinarlo ai giovani santagatesi. Da allora, grazie all'impegno delle religiosi migliaia di giovani, sono cresciuti e si sono formati nell'Istituto dal punto di vista religioso, culturale, professionale ed umano. Tutte le realtà presenti all'incontro hanno espresso al Sindaco il sentimento di preoccupazione diffuso nella città, circa il rischio che venga meno definitivamente un punto di riferimento per la comunità locale. Il Sindaco ha accolto l'appello provenienti da associazioni e movimenti e ha assicurato il massimo dell'impegno, previo avvio nell'immediato di un'interlocuzione con la Curia Vescovile, affinché la chiusura dell'Istituto delle figlie di Maria Ausiliatrice non segni anche la fine di una storia che è connaturata all'essenza stessa della città e dei suoi abitanti.